Giorno, mi chiamo Forrest, Forrest Gump Talmente candido da sembrare Forrest Gump Diverso Forrest si trova esattamente qui Lei è stupido o che? Stupido è chi lo stupido fa signore E se il mondo non è come gli piace Corri, Forrest Lo ridipingerà a modo suo E quello che diavolo è? Ma è solo l'idiota del paese La vita è uguale a una scatola di cioccolatini Non sai mai quello che ti capita Tom Hanks è Forrest Gump Domenica alle 20.40 Su Canale 5 Non stare fermo Pray Wind Se scegli Wind e ti ricarichi entro il 2 agosto Avrai gratis il 100% della ricarica in più Secondo voi ci sta? Ma certo che ci sta E lei ci sta? Sì, ci sta, ci sta Anche lei ci sta? Ma sì che ci sta Nelle nuove Alpenlibe senza zucchero Il massimo del gusto sta in pochissime calorie Alpenlibe senza zucchero Stai con il gusto Borotalco bagno schiuma Altonal lo stress Borotalco bagno schiuma Con il suo profumo di Borotalco Borotalco Altonal lo stress Ford presenta Fiesta tre porte con Intelligent Protection System Tutta la sicurezza di airbag frontali intelligenti, airbag laterali e ABS con EVT a 9500 euro Fino al 31 luglio Strappa la busta e gusta Cubissimo Rio Mare Il cubetto di tonno rivoluzionario Cubissimo Rio Mare Squisiti cubetti di tonno compatti e gustosi Un modo tutto nuovo per inventare insalate sempre ricche e appetitose Cubissimo Rio Mare Al naturale e all'olio d'oliva E tutta un'altra insalata Mamma è arrivato il signore che porta a spasso Tobi Advance può contribuire a Un miglior funzionamento del cuore Una maggiore resistenza alla placca dentaria Una migliore digestione e salute intestinale Ed una maggior protezione contro l'invecchiamento Tutti i nutrienti di Advance favoriscono una vita più sana A domani Da Affinity Scorpione La felicità è un attimo Problemi a scegliere gli elettrodomestici da solo? Da Synergy c'è chissà cosa è meglio per te Synergy La grande catena dal volto umano Nuovo Colgate Triple Action Alito Fresco Ehi papà fammi il leone Colgate Triple Action Denti Bianchi Mamma fammi la principessa Colgate Triple Action Denti Forti E io sono una tigre Nuovo Colgate Triple Action Con microcristalli che puliscono delicatamente E tre strisce per un alito più fresco Denti più bianchi e protezione dalla carie Protezione Colgate Tripla protezione per la tua famiglia Dai sorridete Nuovo Colgate Triple Action Per una tripla protezione Tra gli oggetti volanti Avvistati Come vedete dalle immagini Alle mie spalle Il primo che regna in queste ore Tutti si domandano Chi sono Da dove vengono E soprattutto Che cosa c'è New Technic Generation Intelligenza superiore Rex Fatti per essere il numero uno Cosa ti metti in spiaggia quest'estate? Il nuovo latte solare rassodante Nivea Sun Protegge dal sole Rassoda la pelle Anche con fattore di protezione 2 Sì c'è Grazie Anto Il gusto di Nesty rinfresca a fondo Anche Molto a fondo Fa freddo Nesty ritrova il tuo slancio naturale Oggi tra i sughi star scegliamo il pesto E facciamo la prova più difficile Lo facciamo assaggiare ai genovesi E allora Vi piace il mio pesto? Buonissimo È un pesto pronto Davvero? Sì è vero Lasciatevi sorprendere Dalla bontà del gran pesto tigullio star Gran sughi star Non sughi Gran sughi E oggi le nuove specialità Con l'etichetta nera Alla tosca Alla livornese Alla diavola Un aiuto efficace Per i dolori muscolari e articolari Volta Ren e Mulgel Grazie alla sua formulazione Viene assorbito attraverso la pelle Volta Ren e Mulgel Combatte il dolore E aiuta il naturale recupero fisico È un medicinale Leggere il foglio illustrativo Pino Silvestre Una tradizione che continua nel tempo E da oggi I nuovi detergenti di fiducia Per l'igiene intima Pino Silvestre Un amico vero Seat Ibiza Quest'estate Più che mai Sulla cresta dell'onda A partire da 9.700 euro Nuova Seat Ibiza Da oggi E fino al 31 agosto Anticipo zero E paghi la prima rata dopo 4 mesi Solo dai concessionari Seat Seat Ibiza Oggi ci vai in vacanza Tra 4 mesi Inizi a pagarla Autoemozione